Grazie a tutti. Sono felice di iniziare con voi questo nuovo mandato, sicuramente mi mancherete moltissimi di voi, perché questa è stata la mia casa su 15 anni e quindi c'è tanto pezzo della mia vita qua, non in questo posto, infatti sono andata precisa con un nuovo posto, il piatto del mondo. Tra le altre cose, dopo qui hanno un ulteriore emotivo di ritardo. Poi ho visto tutto buio, ho detto fermato il campo. Per voi niente, è un saluto informale. Sono felice di essere qua, felice di essere qua. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.